Ho scritto su questo quaderno la lista della frutta e verdura da Medeo su Amonchignoso. Dov'è Amonchignoso? C'è la lista della frutta e verdura qui, qui c'è la frutta e qui la verdura. Vedete un pochino sfocato perché parla bene. Vado a prendere la frutta e verdura con mio padre. Guarda la sua macchina. Guarda la finna. Io non l'ho presa. Ho preso. Ho preso. Ho preso. Ho preso. La patrizia con Davide. Sì, tanto che sta levando la macchina, giro. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 è un'anzalata riccia è un'anzalata riccia è un'anzalata riccia apri a moto figi apri santi la ruvina papà sta zucca santi la ruvina Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mango È un frutto Grazie a tutti Mango è diverso Iniziano ora perciò nel senso Prendi il tempo non è che Il mango si è diverso Ah credo che i beni sono solo avventi Lui c'è avocado lo so Eccolo qui Quanto viene? 5 euro Così dopo ci prendo al seno Il seme che c'è dentro E dentro c'è viene il germoglio E dentro il seno c'è il germoglio E io la posso mettere all'acqua Con un fattore di pianta E così dopo crescerà la radice E poi si è diventata la pianta Ho visto su internet come si fa il video Si fa Vabbè la sto c'è il mio ufficiello La ce la vi così Con il fatto di insalare Vieni giù una volta la settimana Vieni a farti di scioglimento Ciao ragazzi Ciao Non viaggia Basta così? 10 e 93 Adesso ho fatto un po' Mi taglio Grazie Ciao Grazie Ciao Sì 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 i limoni avete preso questo è ancora pesare questo è più resistente 5 3 davanti e solo 3 la scala la scala le banane le mettiamo a vetto le mele sono quelle da uno là e c'è questa qua è la riccia basta così 24 e tonare questo è se stanno ok un'altra parte Grazie a tutti. Grazie a voi. Se volete uscire dietro, potete uscire anche dietro. Non so se non mette la macchina. No, c'è una macchina di video. Dai, qui vicino a parte. Grazie. Buonasera, arrivederci. Ciao. Ciao. E' una macchina che passiamo qui, è la discesa. Il mango è dolce. Dolce. L'avocado ha una fonte proteica. Nanca devo vedere quant'è, non c'è io, di proprietà. Non c'è io, di proprietà, non c'è io, di proprietà. Allora, let me turn her over. Oh! Oh! Oh my god! E' la line where the sky meets the sea. It calls me. E' la line. You didn't have to cut me off. You're sick of like a devil. Fuckin' boy we were nothing. I don't even need your love. But you treat me like a stranger and I feel so. A few moments later. A few moments later. And I don't understand, baby, why can't you? Vai a letto! Vai a letto! Vai a letto adesso! No! No! Ma vai a letto tu, scusa. Se non sono stanco, voglio stare qua ancora cinque minuti con questa marea di amici. Vai a letto! Vai a letto! Prenditi una tisanella. Datti una calmata. E basta! Si inisce male. Basta! Un infarto, vai. Basta! Sì! Basta! 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 Grazie a tutti